Giornata prima, parte prima di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Vito Marangelli. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata prima, parte prima. Giornata prima, interlocutori, salviati, sagredo e semplicio. Salviati, fu la conclusione e l'appuntamento di ieri che noi dovessimo in questo giorno discorrere, quanto più distintamente e particolarmente per noi si potesse, intorno alle ragioni naturali e loro efficacia, che per l'una parte e per l'altra, sin qui sono state prodotte dai fautori della posizione aristotelica e tolemaica e dai seguaci del sistema copernicano. E perché, collocando il Copernico la Terra tra i corpi mobili del cielo, viene a farla essa ancora un globo simile a un pianeta, sarà bene che il principio delle nostre considerazioni sia l'andare esaminando quale e quanta sia la forza e l'energia dei progressi per i patetici nel dimostrare come tale assunto sia del tutto impossibile, atteso che sia necessario introdurre in natura sostanze diverse tra di loro, cioè la celeste e la elementare, quella impassibile ed immortale, questa alterabile e caduca. Il quale argomento tratta egli nei libri del cielo, insinuandolo prima con discorsi dipendenti da alcuni assunti generali e confermandolo poi con esperienze e con dimostrazioni particolari. Io, seguendo l'istesso ordine, proporrò e poi liberamente dirò il mio parere, esponendomi alla censura di voi ed in particolare del Signor Simplicio, tanto strenuo campione e mantenitore della dottrina aristotelica. E' il primo passo del progresso peripatetico quello dove Aristotile prova la integrità e perfezione del mondo con la di Tarci comei non è una semplice linea né una superficie pura, ma un corpo adornato di lunghezza, di larghezza e di profondità. E perché le dimensioni non son più che queste tre, avendole egli, le ha tutte ed avendo il tutto è perfetto. Che poi, venendo dalla semplice lunghezza costituita a quella magnitudine che si chiama linea, aggiunta la larghezza si costituisca la superficie e, sopraggiunta l'altezza o profondità, ne risulti il corpo. E che dopo queste tre dimensioni non si dia passaggio ad altra, sì che in queste tre sole si termini l'integrità e per così dire la totalità. avrei ben desiderato che da Aristotile mi fosse stato dimostrato con necessità e massime potendosi ciò eseguire assai chiaro e speditamente. Simplicio. Mancano le dimostrazioni bellissime nel secondo, terzo e quarto testo dopo la definizione del continuo. Non avete primieramente che oltre alle tre dimensioni non ven'è altra perché il tre è ogni cosa e il tre è per tutte le bande. e ciò non viene egli confermato con l'autorità e dottrina dei pitagorici che dicono che tutte le cose sono determinate da tre principio, mezzo e fine che è il numero del tutto. E dove lasciate voi l'altra ragione cioè che quasi per legge naturale che tal numero si usa nei sacrifici degli dèi e che dettante pur così la natura alle cose che sono tre e non a meno attribuiscono il titolo di tutte perché di due si dice a men due e non si dice tutte ma di tre sì bene. E tutta questa dottrina l'avete nel testo secondo nel terzo poi ad pleniorum scientiam si legge che l'ogni cosa il tutto e il perfetto formalmente sono lì stesso e che però solo il corpo tra le grandezze è perfetto perché esso solo è determinato da tre che è il tutto ed essendo divisibile in tre modi è divisibile per tutti i versi ma dell'altre chi è divisibile in un modo e chi in due perché secondo il numero che gli è toccato così hanno la divisione e la continuità e così quella è continua per un verso questa per due ma quello cioè il corpo per tutti di più nel testo quarto dopo alcune altre dottrine non prove gli stesso con un'altra dimostrazione cioè che non si facendo trapasso se non secondo qualche mancamento e così dalla linea si passa alla superficie perché la linea è manchevole di larghezza ed essendo impossibile che il perfetto manchi essendo egli per tutte le bande però non si può passare dal corpo ad altra magnitudine or da tutti questi luoghi non vi pare egli a sufficienza provato come oltre alle tre dimensioni lunghezza larghezza e profondità non si dà transito ad altra e che però il corpo che le ha tutte è perfetto salviati io per dire il vero in tutti questi discorsi non mi sono sentito stringere a concedere altro se non che quello che ha principio mezzo e fine possa e deve dirsi perfetto ma che poi perché principio mezzo e fine sono tre il numero tre sia numero perfetto ed abbia ad aver la facoltà di conferire perfezione a chi l'averà non sento io cosa che mi muova a concederlo e non intendo e non credo che verbi grazia per le gambe il numero tre sia più perfetto che il quattro o il due né so che il numero quattro sia di imperfezione agli elementi e che più perfetto fusse che fusser tre meglio dunque era lasciar queste vaghezze ai retori e provare il suo intento con dimostrazione necessaria che così convien fare nelle scienze dimostrative simplicio perché voi pigliate per ischerzo queste ragioni eppure tutta dottrina dei pitagorici i quali tanto attribuivano ai numeri e voi che siete matematico e credo anche in molte opinioni filosofo pitagorico pare che ora dispreziate i loro misteri salviati che i pitagorici avessero insomma stima la scienza dei numeri e che Platone stesso ammirasse l'intelletto umano e lo stimasse partecipe di divinità solo per l'intender egli la natura dei numeri io benissimo lo so ne sarei lontano dal farne l'istesso giudizio ma che i misteri per i quali pitagora e la sua setta avevano in tanta venerazione la scienza dei numeri sieno le sciocchezze che vanno per le bocche e per le carte del volgo non credo io in veruna maniera anzi perché so che essi a ciò le cose mirabili non fussero esposte alle contumelie e al dispregio della plebe dannavano come sacrilegio il pubblicare le più recondite proprietà dei numeri e delle quantità incommensurabili ed irrazionali da loro investigate e predicavano che quello che le avesse manifestate era tormentato nell'altro mondo penso che taluno di loro per dar pasto alla plebe e liberarsi delle sue domande gli dicesse i misteri i loro numerali esser quelle leggerezze che poi si sparsero tra il vulgo e questo con astuzia ed accorgimento simile a quello del sagace giovane che per torsi d'attorno l'importunità non so se della madre o della curiosa moglie che la sediava a ciò le conferisse i segreti del senato compose quella favola onde essa con molte altre donne rimasero di poi con gran risa del medesimo senato schernite semplicio io non voglio essere nel numero dei troppo curiosi dei misteri dei pitagorici ma stando nel proposito nostro replico che le ragioni prodotte da aristotile per provare le dimensioni non esser né poter esser più di tre mi paiono concludenti e credo che quando ci fosse stata dimostrazione più necessaria aristotile non l'avrebbe lasciata indietro sagredo aggiungetevi al manco se l'avesse saputa o se la gli fusse sovenuta ma voi signor salviati mi farete ben gran piacere di arrecarmene qualche evidente ragione se alcuna ne avete così chiara che possa essere compresa da me salviati anzi e da voi e dal signor simplicio ancora e non pur compresa ma di già anche saputa se ben forse non avvertita e per più facile intelligenza piglieremo carta e penna che già veggio qui per simili occorrenze apparecchiate e ne faremo un poco di figura e prima noteremo questi due punti AB e tirate dall'uno all'altro le linee curve ACB ADB e la retta AB vi domando quale di esse nella mente vostra è quella che determina la distanza tra i termini AB B e perché sagredo io direi la retta e non le curve sì perché la retta è la più breve sì perché le una sola è determinata dove le altre sono infinite ineguali e più lunghe e la determinazione mi pare che si deve prendere da quel che è uno è certo salviati noi dunque avviamo la linea retta per determinatrice della lunghezza tra due termini aggiunghiamo adesso un'altra linea retta e parallela alla AB la quale sia CD sì che tra esse resti frapposta una superficie della quale io vorrei che voi mi assegnaste la larghezza però partendovi dal termine A ditemi dove e come voi volete andare a terminare nella linea CD per assegnarmi la larghezza tra esse linee compresa dico se voi la determinerete secondo la quantità della curva AE oppure della retta AF oppure simplicio secondo la retta AF e non secondo la curva essendosi già escluse le curve da simil uso sagredo ma io non mi servirei né dell'una né dell'altra vedendo la retta AF andare obliquamente ma vorrei tirare una linea che fosse a squadra sopra la CD perché questa mi par che sarebbe la brevissima ed unica delle infinite maggiori e tra di loro ineguali che dal termine A si possono produrre ad altri ed altri punti della linea opposta CD salviati parmi la vostra elezione e la ragione che ne adducete perfettissima tal che sin qui noi abbiamo che la prima dimensione si determina con una linea retta la seconda cioè la larghezza con un'altra linea pur retta e non solamente retta ma di più ad angoli retti sopra l'altra che determinò la lunghezza e così abbiamo definite le due dimensioni della superficie cioè la lunghezza e la larghezza ma quando voi aveste a determinare un'altezza come per esempio quanto sia alto questo palco dal pavimento che noi abbiamo sotto i piedi essendo che da qualsivoglia punto del palco si possono tirare infinite linee e curve rette e tutte di diverse lunghezze ad infiniti punti del sottoposto pavimento di quale dico tali linee vi servireste voi sagredo io attaccherei un filo al palco e con un piombino che pendesse da quello lo lascerei liberamente distendere sino a che arrivasse prossimo al pavimento e la lunghezza di tal filo essendo la retta e brevissima di quante linee si potessero dal medesimo punto tirare al pavimento direi che fosse la vera altezza di questa stanza salviati benissimo e quando dal punto notato nel pavimento da questo filo pendente posto il pavimento a livello e non inclinato voi faceste partire due altre linee rette una per la lunghezza e l'altra per la larghezza della superficie di esso pavimento che angoli conterrebbero elleno con esso filo sagredo conterrebbero sicuramente angoli retti cadendo esso filo a piombo ed essendo il pavimento ben piano e ben livellato salviati adunque se voi stabilirete alcun punto per capo e termine delle misure e da esso farete partire una linea retta come determinatrice della prima misura cioè della lunghezza bisognerà per necessità che quella che deve definire la larghezza si parta ad angolo retto sopra la prima e che quella che ha da notare l'altezza che è la terza dimensione partendo dal medesimo punto formi pur con le altre due angoli non obliqui ma retti e così dalle tre perpendicolari avrete come da tre linee une e certe e brevissime determinate le tre dimensioni AB lunghezza AC larghezza AD altezza e perché chiara cosa è che al medesimo punto non può concorrere altra linea che con quelle faccia angoli retti e le dimensioni delle sole linee rette che tra di loro fanno angoli retti devono essere determinate adunque le dimensioni non sono più che tre e chi ha le tre le ha tutte e chi le ha tutte è divisibile per tutti i versi e chi è tale è perfetto eccetera Simplicio e chi lo dice che non si possano tirare altre linee e perché non possio far venire di sotto un'altra linea sino al punto A che sia a squadra con l'altra Salviati voi non potete sicuramente ad un stesso punto far concorrere altro che tre linee rette sole che fra di loro costituiscano angoli retti Sagredo sì perché quella che vuol dire il signor Simplicio par a me che sarebbe l'istessa di A prolungata in giù ed in questo modo si potrebbe tirarne altre due ma sarebbero le medesime prime tre non differenti in altro che dove ora si toccano solamente allora si segherebbero ma non apporterebbero nuove dimensioni Simplicio io non dirò che questa vostra ragione non possa essere concludente ma dirò bene con Aristotile che nelle cose naturali non si deve sempre ricercare una necessità di dimostrazione matematica Sagredo sì forse dove non la si può avere ma se qui ella ci è perché non la volete voi usare ma sarà bene non ispendere più parole in questo particolare perché io credo che il signor Salviati ad Aristotile ed a voi senza altre dimostrazioni avrebbe conceduto il mondo esser corpo ed esser perfetto e perfettissimo come opera massima di Dio Salviati così è veramente però lasciata la general contemplazione del tutto venghiamo alla considerazione delle parti le quali Aristotile nella prima divisione fa due e tra di loro diversissime ed in certo modo contrarie dico la celeste è la elementare quella ingenerabile incorruttibile inalterabile impassibile eccetera e questa è esposta ad una continua alterazione mutazione eccetera la qual differenza cava egli come dal suo principio originario dalla diversità dei moti locali e cammina con tal progresso uscendo per così dire dal mondo sensibile e ritirandosi al mondo ideale comincia architettonicamente a considerare che essendo la natura principio di moto conviene che i corpi naturali siano mobili di moto locale dichiara poi i movimenti locali esser di tre generi cioè circolare retto e misto del retto e del circolare e li due i primi chiama semplici perché di tutte le linee la circolare e la retta sole sono semplici e di qui ristringendosi al quanto di nuovo definisce dei movimenti semplici uno essere il circolare cioè quello che si fa intorno al mezzo ed il retto all'insù ed all'ingiù cioè all'insù quello che si parte dal mezzo all'ingiù quello che va verso il mezzo e di qui inferisce come necessariamente conviene che tutti i movimenti semplici si ristringano a queste tre spezie cioè al mezzo dal mezzo e intorno al mezzo il che risponde dice egli con certa bella proporzione a quel che si è detto di sopra del corpo che esso ancora è perfezionato in tre cose e così il suo moto stabiliti questi movimenti segue dicendo che essendo dei corpi naturali altri semplici ed altri composti di quelli e chiama corpi semplici quelli che hanno da natura principio di moto come il fuoco e la terra conviene che i movimenti semplici siano dei corpi semplici ed i misti dei composti in modo però che i composti seguano il moto della parte predominante nella composizione sagredo di grazia signor salviati fermatevi al quanto perché io mi sento in questo progresso pullular da tante bande tanti dubbi che mi sarà forza o dirgli se io vorrò sentir con attenzione le cose che voi soggiugnerete o rimuover l'attenzione dalle cose da dirsi se vorrò conservare la memoria dei dubbi salviati io molto volentieri mi fermerò perché corro ancora io simil fortuna e sto di punto in punto per perdermi mentre mi conviene veleggiare tra scoglie d'onde così rotte che mi fanno come si dice perder la bussola però prima che far maggior cumulo proponete le vostre difficoltà fine della giornata prima parte prima registrazione di Vito Marangelli Mola di Bari Mola di Bari